Finalmente una norma unica in materia di sostenibilità nel settore del vino è proprio il caso di dirlo, perché dopo tanto lavoro e dopo tanti confronti, finalmente Equalitas è pronto a presentare una norma certificabile che parli di sostenibilità nel mondo del vino. È stato un lavoro di aggregazione che vede coinvolti diversi stakeholder, CSQA, Valoritalia, Unione Italiana Vini, Federboc, Gambeo Rosso, Trea Vino, che insieme hanno prodotto questa norma. Norma che nasce dalla collaborazione e dal confronto col Forum per la Sostenibilità, nasce dal confronto con i principali standard in materia di sostenibilità a livello globale e nasce dal confronto costante con Tergeo e quindi Unione Italiana Vini. È una norma che approccia il tema della sostenibilità secondo i tre pilastri, quindi quello sociale, quello ambientale e quello economico, che definisce degli indicatori e per ciascun indicatore dei requisiti, requisiti quindi verificabili, misurabili e oggettivi. Una norma quindi che si prefigge l'obiettivo di diventare il riferimento per tutti i produttori della filiera vitivinicola e che si rivolge sia alle aziende, sia ai prodotti e quindi con il coinvolgimento della filiera produttiva.